Buongiorno e benvenuti a benvenuti al nostro appuntamento con la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Oggi un appuntamento molto importante perché parliamo di isteroscopia, qualcosa che per voi forse è sconosciuta ma ha a che fare con la sfera ginecologica e lo facciamo con il dottor Ruggero Pulcinella, il nostro esperto, il nostro specialista in questa tipologia, in questa tecnica di intervento. Ne parleremo fra un attimo dicendo anche un grazie al dottor Pulcinella come a tutti i medici del nostro centro che si prestano a divulgare tante informazioni importanti di prevenzione primaria, cioè di prevenzione contro i tumori e quindi di informazione un po' per tutti, per tutte le età. Oggi ci rivolgiamo soprattutto alle donne e quindi vedremo fra un attimo con il dottor Pulcinella ringraziandolo appunto di essere qui perché fra poco sarà insieme alle nostre pazienti per eseguire alcuni esami. Di che cosa si tratta l'isteroscopia? Che cos'è? Proviamo a spiegarlo in maniera chiara e semplice a tutti. Buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito. Entriamo subito in argomento dicendo che l'isteroscopia è un esame cosiddetto mini-invasivo, cioè un esame che si può fare in ambulatorio senza alcuna anestesia e che serve principalmente per studiare la patologia eventualmente presente nella cavità dell'utero. Tutte le possibili patologie sia di tipo benigno, sia di tipo premaligno, sia francamente tumorale. Quindi si sposa perfettamente con la filosofia della l'Ilt e la lega italiana lotta tumori. Ecco, dicevamo che questo è un esame che possono fare tutti perché non è invasivo e quindi dobbiamo capire adesso come si esegue perché alcune donne hanno paura, hanno l'ansia di eseguire questo esame, invece bisogna essere molto tranquille perché, dicevamo, non è un esame invasivo. No, ecco, questa domanda mi offre proprio lo spunto per parlare un po', fare un po' chiarezza sull'argomento, perché sempre più spesso negli ultimi anni mi capitano persone che vengono a fare l'esame terrorizzate, o perché l'hanno già fatto altrove e hanno sentito molto male, o perché gli hanno raccontato che è un esame dolorosissimo, o perché molte volte anche i medici stessi preferiscono farlo in anestesia generale, quindi sono un po' sconcertate. A queste persone voglio ribadire il concetto che è un esame ambulatoriale, che si può fare perfettamente senza alcuna anestesia, né sedazione, né locale, che dura pochissimo, è un esame che in mani esperte, chi conosce bene la tecnica, dura al massimo un minuto, un minuto e mezzo, e che è ripetibile, quindi si può fare per questo motivo che ho detto, si può fare più volte se necessario ripeterlo. È un esame che permette, come dicevo, di studiare la cavità uterina, di vederla direttamente proiettata in un monitor, in modo tale che lo possa vedere anche la paziente stessa mentre si esegue, e questo è un deterrente all'ansia, perché vedere e sentire le spiegazioni mentre seguiamo l'esame è un elemento estremamente fondamentale di tranquillizzazione della paziente stessa. E quindi, dottore, che preparazione dobbiamo fare prima di questo esame? Come ci dobbiamo preparare all'ingresso in ambulatorio? Non occorre alcuna preparazione da fare prima dell'esame, non occorrono analgesici, non occorre digiuno, non occorre niente, logicamente una leggera colazione, visto che l'esame di norma lo facciamo la mattina, quindi una leggerissima, una leggera colazione, ma nessuna preparazione farmacologica, occorre soltanto arrivare fiduciose e con un atteggiamento di rilassato e tranquillo per poter fare l'esame. Non servono antibiotici, né prima né dopo, niente, né esami di controllo precedenti, non occorrono alcuni esami indirizzati all'esecuzione di questo esame. Ecco, quindi dobbiamo pensare che questo non è un esame doloroso, che non crea altri disagi e che quindi non deve creare, come dicevamo, le ansie e il pathos di cui parlavamo prima. Ripeto, l'esame non è doloroso, tutt'al più può creare un leggero fastidio, un discomfort, come diciamo noi, ma, ripeto, la breve durata dell'esame permette l'esecuzione nella quasi totalità dei casi. Nei rarissimi casi in cui non è possibile, questo voglio ribadirlo, parlavo del 2% dei casi, il medico esperto se ne accorge subito perché c'è qualche anomalia, per esempio, del collo dell'utero che ne impedisce l'esecuzione e lo sospende, però so che all'istante, rimandando l'esame alla esecuzione in sedazione. Ripeto, però, 1-2% dei casi, non di più, nel 98% si può fare senza alcun problema. Allora, dottor Pulcinella, passiamo alla parte clinica, cioè cerchiamo di chiarire quando è indicato ricorrere a un'isteroscopia dopo una visita ginecologica in cui si trova qualcosa che non va. Allora, le indicazioni all'esecuzione di un'isteroscopia diagnostica sono moltissime, però io qui mi soffermerei soprattutto su quelle che sono di competenza delle persone che accedono alla Lega italiana lotta tumori e qui si apre un capitolo enorme che è quello, l'indicazione principale assoluta è la presenza di sanguinamenti uterini anomali. Cosa sono questi sanguinamenti uterini anomali? Sono la comparsa di perdi tematiche per via vaginale in tutte le situazioni in cui non ci devono essere, per esempio il grande capitolo della menopausa. Tutte le donne sanno benissimo che in menopausa scompaiono le mestruazioni, anche se gradualmente la comparsa di un sanguinamento in un periodo di amenorrea in cui le mestruazioni sono andate via per la menopausa, deve mettere in allarme e indurre all'esecuzione di questo esame. Ma anche nell'età fertile, nei casi in cui le donne hanno ancora le mestruazioni, tutte le volte che le mestruazioni sono irregolari, per esempio molto lunghe, molto abbondanti, perdite di sangue tra un ciclo e l'altro, tutte le volte che c'è un'anomalia nel sanguinamento uterino bisogna rivolgersi a fare prima un esame diagnostico, una visita con un'ecografia e poi eventualmente una isteroscopia diagnostica. Ma ce ne sono anche altre, per esempio principalmente la diagnosi precoce fino al trattamento chirurgico di cui forse parleremo prima, del cancro dell'endometrio e dei suoi precursori. Ci sono delle patologie che non sono ancora cancro ma possono diventarne nel tempo e che l'isteroscopia diagnostica permette di diagnosticare, scusate la ripetizione, in tempo utile alla guarigione assoluta per la donna. Ci sono ancora tutte le esecuzioni dovute alla presenza di un'ecografia patologica, cioè un ginecologo fa l'ecografia, fa la visita, riscontra qualcosa che non va e indirizza la paziente all'esecuzione di una isteroscopia. C'è il monitoraggio dell'iperplasia endometriale che è un precursore alla lunga, soprattutto in menopausa, del carcinoma dell'endometrio e quindi l'isteroscopia diagnostica permette di monitorarlo, cioè di diagnosticarlo, guarirlo e studiare nel tempo l'evoluzione positiva di questa patologia. Poi, un altro importante, un controllo delle pazienti che vengono sottiposte a terapia dopo aver eseguito una mastettomia completa oppure una quadrantettomia in caso di un cancro della mammella. Quindi anche in questo caso l'isteroscopia ha un ruolo fondamentale. E infine monitoraggio delle pazienti che sono a rischio di cancro dell'endometrio, per esempio le pazienti obese, le pazienti con diabete, le pazienti che hanno una policistosi ovarica e che quindi di tanto in tanto nella loro vita necessitano dell'esecuzione di questo esame. Quindi abbiamo capito che è una tecnica molto importante nella prevenzione dei tumori sicuramente, lo abbiamo sentito un attimo fa, ma è sicuramente una tecnica e una possibilità diagnostica che permette di fare diagnosi che finora erano in qualche modo impossibili. È così, dottore? Assolutamente sì, è verissimo quello che ha appena detto. Vorrei fare un esempio che secondo me è calzantissimo, cioè questo esame è stato veramente rivoluzionario per la donna perché fino a 30 anni fa, circa quando iniziava l'esecuzione di questo esame, tra i primi pionieri che l'avevano poi portato, studiato e realizzato, gli sanguinamenti uterino anomali erano difficilmente diagnosticabili. L'unica arma che avevamo era il famoso raschiamento che molte donne hanno fatto, ma che portava a tanti errori di diagnosi e quindi alla fine poi la soluzione del sanguinamento uterino anomalo era l'isterettomia, cioè non c'era altro modo di risolvere il problema se non asportando l'utero. Questo esame è stato veramente rivoluzionario, tanto che induce a fare diagnosi di tante patologie, a prevenire il cancro dell'utero e quindi a ridurre l'esecuzione dell'isterettomia soltanto ai casi di un tumore conclamato. Tutto quello che c'è prima di questo, patologie benigne, patologie primarigne, può essere diagnosticato e risolto con questo esame, mentre prima l'unica possibilità che avevamo era quella del raschiamento che ora è stato abolito dalla pratica clinica perché è un'indagine intanto che va fatta in anestesia generale e che è gravata da tanti falsi positivi o negativi, cioè ci sono errori di esecuzione elevatissimi, oppure l'isterettomia, cioè l'asportazione dell'utero. Quindi come mi piace dire l'isteroscopia è un esame dalla parte delle donne perché permette veramente di fare un rapporto di qualità e di correttezza dell'esecuzione che forse nessun esame riesce ad avere. Ecco, possiamo fare con questa tecnica anche delle biopsie, dottore? È possibile certo eseguire biopsie, tant'è vero che viene chiamato proprio come esame il gold standard, cioè l'esame migliore e più preciso proprio per l'esecuzione delle biopsie. Che cos'è una biopsia? È il prelievo di un tessuto anche in piccoli frammenti all'interno dell'utero durante l'esecuzione di questo esame. Quindi tutte le volte che noi vediamo un tessuto ipertrofico, un tessuto sospetto, una piccola anomalia, anche piccole patologie, per esempio dei piccoli polipi, possiamo fare dei prelievi migrati, cioè direttamente sulla lesione, non a caso, quindi non alla cieca, e quindi poter fare una diagnosi precoce di tutto ciò che rappresenta questo spessimento per cui facciamo le biopsie. Prima di tutto, ripeto, i precursori del cancro e il cancro dell'endometrio. E quindi fare una diagnosi in tempi precocissimi, quando possiamo risolvere definitivamente poi la patologia. Quindi avete capito che è molto importante aver introdotto l'isteroscopia nella nostra struttura, nel nostro centro di prevenzione oncologica, dove operano molti ginecologi, c'è una grande squadra, e ginecologi operano in sintonia con il dottor Pulcinella, perché i casi appunto sospetti vengono trasferiti al suo giudizio, perché noi abbiamo veramente il privilegio di avere uno specialista che già opera come dirigente medico nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, nell'ospedale di San Donato di Arezzo, come libero professionista presso la casa di cura Villa Donatello di Firenze, il San Giuseppe Ospital di Arezzo, la Domus Nova di Ravenna e quindi anche alla Lilt di Siena. Quindi è un bel privilegio averlo fra di noi. Ciò che è importante dire è che durante la pandemia, purtroppo dovuta al Covid, molte donne rinunciano ai controlli e rinunciando perdono molto tempo. Voglio leggervi alcuni dati, alcuni dati recentissimi di un rapporto su salute equità. Nel 2020, a causa della pandemia è un aumento di circa il 40% le rinunce delle cure dei pazienti non Covid e sono diminuiti del 48%, pensate, gli screening cervicale, mammografico e color rettale. Cioè tre punti cardine della prevenzione oncologica vengono a mancare in massima parte. Quindi, dottor Pulcinella, che cosa vuol dire questo? Che rischio c'è se questo è l'andamento e se questo è il trend delle rinunce? Sì, il rischio c'è evidentemente, anche se si gioca nella distanza di mesi, non certo di giorni di ritardo sull'approcciarsi da parte della donna a questo esame. Io dico sempre che in un periodo come questo forse qualcosa si può anche rimandare, la solita visita di controllo, qualche piccola perdita vaginale, un po' di infiammazione. Ci sono tante patologie, anche minime, che possiamo anche rimandare, ma ce ne sono alcune su cui io continuo a richiamare l'attenzione delle donne anche in questo periodo. Quindi soprattutto in menopausa, ma anche in età fertile, ripeto, principalmente in menopausa, non rimandate la diagnosi di una perdita anomala, un sanguinamento uterino anomalo. Non rimandate una diagnosi quando l'ecografista vi dice che c'è qualcosa che non va, che va approfondito. Non rimandatela tutte le volte, appunto, che c'è un sospetto di una patologia preneoplastica. Quindi non vi fate in qualche modo spaventare dalla pandemia, perché come tutte le patologie, questa principalmente, il ritardo della diagnosi potrebbe essere fatale. Quindi basta anche un anno o due di ritardo nella diagnosi che può complicare poi la vita, principalmente a voi stesse, ma anche poi al medico che si trova a dover affrontare la vostra salute e ad aiutarvi. Noi tendiamo a ripeterlo spesso, in centri come il nostro e nella nostra città ce ne sono tanti di prevenzione, si adottano tutti i presidi anti-covid. Quindi ci si può affidare assolutamente con grande sicurezza a centri come il nostro perché ci sono tutte le regole adottate secondo i protocolli che ci vengono imposti. È così, dottore? Sì, noi seguiamo rigorosamente tutte le regole che ci vengono imposte generalmente dalla pandemia anche durante l'esecuzione di questo esame. Quindi la distanza, per esempio la presenza di mascherine, la disinfezione delle superfici, le barriere di plexiglass tra il paziente e il medico che esegue l'esame, il lavaggio delle mani, eccetera. Quindi tutto ciò, la sterilizzazione strumenti, ma questo vale comunque sempre, tutto ciò da noi è in perfetta esecuzione quindi permette un'efficienza completa e una sicurezza massima dell'esame. Allora, dottor Pulcinella, prima di concludere veniamo a ricapitolare che cosa accade nell'isteroscopia arrivando anche alla parte finale, cioè se viene trovato qualcosa da rimuovere si passa alla parte chirurgica. Come avviene, dove avviene, che cosa dobbiamo pensare, che cosa ci troveremo davanti, dottore? Appunto poi una volta fatta la diagnosi noi dobbiamo dare una risposta alla paziente che molte volte è rassicurante, altre volte lo è lo stesso ma comunque induce a fare un successivo step, cioè la rimozione della patologia che abbiamo riscontrato. Ripeto, a volte biopsie e piccolissime patologie possono essere anche rimosse durante l'esame stesso, ma molte volte invece bisogna rinviare l'assecuzione, l'accompletamento e la risoluzione della patologia a un secondo step, cioè alla chirurgia endoscopica, isteroscopica. Intanto ribadisco il concetto che è una chirurgia conservativa, cioè noi quando operiamo in isteroscopia lasciamo l'integrità assoluta degli organi genitali dell'utero e delle ovaie, ma operiamo soltanto all'interno dell'utero e che cosa? Per esempio tutti i polipi possibili e immaginabili di qualsiasi dimensione possono essere tolti, tutte le lesioni legate a fibromi per esempio che possono creare emorragie, alterare per esempio la possibilità di avere una gravidanza per una donna, non è il nostro settore ma insomma è anche questo importante valutarlo e consigliarlo e addirittura fare anche una terapia chirurgica conservativa di quelle che sono le lesioni preneoplastiche e in alcuni casi, cioè in cui una donna è giovane e nonostante la sua giovane età vuole ancora una gravidanza e gli viene fatta una diagnosi di cancro dell'endometrio, quando il cancro è all'inizio, semplicemente all'inizio, si può asportare senza togliere l'utero. Si toglie il cancro, si chiede la donna di proseguire nella sua decisione di fare una gravidanza e poi una volta fatta la gravidanza partorito riproporre eventualmente l'isterettomia. Questo perché lo dico? Perché oggi l'età di avere un figlio si è innalzata e si è abbassata contemporaneamente l'età in cui può comparire un carcinoma dell'endometrio. Pensate che già dai 36 fino ai 40-45 c'è meno un 20-30% dei casi dell'autorità del cancro che compaiono in questa fascia d'età ed è la fascia d'età in cui molte donne ancora cercano e desiderano una gravidanza. Allora questa diagnosi precoce e la chirurgia conservativa in una situazione di cancro dell'endometrio è fondamentale perché permette alla donna di mantenere il suo utero, di fare il figlio e eventualmente pensare alla rimozione dell'utero dopo aver portato a termine il suo iter pro creativo. Quindi grazie ancora al dottor Pulcinella davvero perché ci ha spiegato in maniera molto chiara in che cosa consiste l'isteroscopia. Abbiamo detto che è una tecnica dalla parte delle donne avete capito quanto è importante nella prevenzione dei tumori quindi lo ringrazio di essere stato con noi e ringrazio voi di averci seguito. L'appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora. Grazie a tutti.